salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video qualche settimana fa ho portato qui sul canale la recensione e la prova di questo incisore laser il longer ray 5 incisore laser entry level quindi è un incisore laser a basso costo se vogliamo perché comunque è un prodotto per chi vuole iniziare ad utilizzare un incisore laser ma iniziando in maniera semplice e sicura e questa è una cosa importante questo incisore laser che ha delle caratteristiche sicuramente super interessanti rapportate a suo prezzo soprattutto per il discorso che non è obbligatorio tenere collegato il pc per utilizzarlo ma possiamo utilizzarlo tramite la micro sd e nell'incisore laser a basso costo è sicuramente l'unico ad averlo però per tutte le sue caratteristiche le sue funzionalità vi rimando al video appunto che ho fatto qualche settimana fa ve lo lascio qua sopra nelle schede e li trovate ovviamente tutto riguardante questo incisore laser quello che invece andremo a vedere oggi è qualche lavoro che ho fatto con lui perché secondo me tante persone non riescono a capire fino in fondo cosa si può fare con un incisore laser ovviamente quello che vedrete oggi non è tutto quello che si può fare con lui però è qualche lavoretto che si può fare a casa a chi piace ovviamente fare un po di fai da te e ha molta creatività un incisore laser è sicuramente tanta roba e ci permette di fare cose da regalare che sono uniche perché le abbiamo fatte noi con la nostra creatività quindi vengono fuori degli oggetti secondo me molto interessanti soprattutto con il legno e infatti quello che andremo a vedere oggi sono cose ovviamente fatte con il legno perché il materiale che io prediligo con l'incisore laser però si può usare anche l'alluminio il cuoio si possono usare vari materiali però come io ho detto io prediligo il legno allora una delle cose che mi piace di più fare con lui è sicuramente incidere foto quindi abbiamo una foto che ci piace ma vogliamo averla in maniera diversa da quella che è comunque la foto su carta e possiamo averla incisa nel legno ovviamente non possiamo avere la risoluzione di una foto su carta ma il concetto dell'incisore laser non è la risoluzione ma è proprio l'idea di avere quella foto bruciata nel legno e questo secondo me è davvero davvero bello soprattutto se dobbiamo regalare una foto a qualcuno immaginiamoci di regalare la foto dei nipotini ai nonni cioè è sicuramente qualcosa di diverso dalle tantissime foto di carta che normalmente tutti hanno e una di queste foto che ho inciso per regalarla ai miei genitori è la foto di mia figlia vedete l'effetto secondo me è spettacolare qua da parte vedete la foto originale mentre questa è la foto incisa adesso non so attraverso le luci che ho qua nello studio e attraverso la telecamera cos'è il risultato ma secondo me quello che abbiamo ottenuto è sicuramente un effetto di impatto nel senso che regaliamo un pezzetto di legno con bruciata la foto che abbiamo scelto e secondo me è un regalo bellissimo da fare un'altra foto che ho fatto e questa l'ho fatta per me come ricordo è quella del mio cane maya una kita inu che è molto anziana perché ha 14 anni quindi sicuramente non gli resterà tantissimo da vivere io spero che viva altri 50 anni ma ovviamente per un cane soprattutto di questa razza 14 anni è un'età molto avanzata quindi ho inciso una sua foto da tenere già adesso in casa che mi piace davvero tanto perché qua lei scuriosava tra le piante quindi con questo incisore longer ray 5 mi sono inciso anche questa fotografia e poi mi sono inciso una foto di quelle che scatto con i miei droni quindi questa foto che ho scattato qua nel mio paese di una piccola chiesetta l'ho scattato con dji mini 3 pro guardate il risultato poi mi sono fatto anche il foro per mettere il chiodino per appenderla e ragazzi secondo me il risultato anche qua è ottimo poi ovviamente nel software in cui andiamo a gestire quello che sarà il progetto si può decidere se farla bruciare di più di meno quindi si può veramente regolare tutto per avere un effetto più personalizzato e più piacevole proprio a livello personale di gusti personali quindi questa è un'altra foto che ho inciso ma adesso volevo farvi vedere una cosa stupidissima l'avete vista ovviamente nella copertina del video ed è questa ho inciso una fetta biscottata con il mio logo spero che dalla videocamera si veda perché ovviamente la fetta biscottata si si incide bene però è molto porosa perché è una fetta biscottata appunto e ovviamente si va a perdere quello che è la definizione delle scritte e dei dettagli però secondo me si capisce che è il mio logo quindi questa è una cosa stupidissima ma che ci fa capire che molteplici possibilità di utilizzo se siamo creativi possiamo avere con un incisore laser anche un incisore laser entry level come questo Longia Ray 5 poi volevo farvi vedere queste che probabilmente chi mi segue su Instagram le ha viste perché sono delle targhette e in questo caso c'è il nome di mia figlia che ho sia inciso il nome che fatta ritagliare dalla longer quindi l'incisore laser l'ha ritagliato infatti vedete che è tutta bruciata sul bordo ha fatto pure il buchino per mettere il chiodino o la cordina per appenderle perché queste targhette queste targhette è stata un'idea di mia figlia che le ha volute una per ogni suo compagno di classe praticamente ne ho incise 18 su ognuna il nome di un suo compagno di classe che alla festa di compleanno di mia figlia ha ricevuto un sacchettino con dentro le caramelle e all'interno ha trovato anche la targhetta personalizzata col proprio nome ed è stato strepitoso il successo che ha avuto voi non potete immaginare questi bambini di otto anni quando hanno visto le targhette con i loro nomi personalizzati sono impazziti cioè le caramelle non le hanno neanche guardate cioè questa cosa di legno praticamente dal costo inesistente perché è una tavolettina di compensato di pochi millimetri ha dato una botta di gioia a questi bambini e vedete che il risultato è ottimo anche qua la scritta si può fare più scura facendo andare più piano il laser quindi andando più piano potrebbe fare la scritta più scura perché brucia di più legno però a me piace così quindi l'ho fatto con questo tipo di colorazione e mentre l'intaglio ragazzi guardate come è venuto bene con quattro passaggi a bassa velocità ha tagliato questo compensato e poi mi ha fatto anche il buchino per mettere la cordina o il chiodino e poi un altro piccolo oggettino che mi sono fatto è questo il portachiavi di dji ovviamente io sono un amante di drone chi mi segue sul canale lo sa anche perché si vedono qua e il marchio numero uno dei droni e dji quindi mi sono fatto prendendo il logo dji e andando a creare un cerchio con il software di gestione ho creato il cerchio che lei ha intagliato infatti vedete come l'ha tagliato bene e rotondo guardate che bel taglio che ha fatto ovviamente un taglio nel legno ma rimane abbastanza preciso gli ho fatto fare anche il foro per far passare l'anella delle chiavi e il risultato ragazzi è questo e secondo me è venuto davvero davvero bene il risultato è ottimo cioè vedete quante piccole cose si possono fare e questi sono solo esempi semplicissimi con un prodotto di questo tipo come vi ho detto sebbene non professionale ci permette davvero di fare di tutto e poi come ultima cosa voglio farvi vedere che poi l'ho già fatto vedere anche nel video in cui l'ho presentata recensita e provata che con queste targhettine che troviamo su amazon che sono targhettine vedete di alluminio nere perché sono verniciati di nero ma sotto c'è il colore alluminio e sono fatte apposta per gli incisori laser possiamo creare dei biglietti da visita io in questo caso inciso il patentino per i droni come vedete però loro nascono per essere utilizzate per fare biglietti da visita con incisori laser quindi ovviamente non se ne può fare tantissimi perché comunque costano di più che il cartone queste targhettine di alluminio però se si vogliono fare un numero limitato da dare solo a determinate persone fanno la loro scena perché vedete che l'incisore laser va a togliere più o meno vernice andando a fare le sfumature anche su un materiale di questo tipo e quindi avremo dei biglietti da visita veramente particolari quindi questi sono stati solo piccoli esempi per farvi capire o meglio per cercare di farvi capire a chi non ha mai utilizzato o non ha mai visto funzionare un incisore laser cosa si può fare con un prodotto di questo tipo vi lascio qua sotto il link in descrizione di questo longer ray 5 è uno dei migliori incisori laser entry level perché come vi ho detto abbiamo micro sd quindi non siamo obbligati a tenere collegato il pc quando lui sta incidendo perché comunque per incidere per esempio questa foto ci ha messo quasi due ore quindi lui ha lavorato per un'ora e 50 minuti per fare questo quindi se dovessimo tenere un computer impegnato magari ci va a limitare altri lavori che dobbiamo fare con il computer mentre con la micro sd lui è totalmente indipendente e in più con il display touch che abbiamo ovviamente tutte cose che ho fatto vedere nel video che vi ho lasciato qua sopra nelle schede diventa di una semplicità incredibile che display touch è la roba più semplice da utilizzare su qualsiasi dispositivo quindi ragazzi spero che questo mio video in cui vi ho portato qualche lavoro che ho fatto con questo incisore laser longer ray 5 vi sia piaciuto se è così ragazzi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram porto tante novitanti e prime spoiler di quello che arriverà qua su youtube spoiler dei prodotti che mi arrivano a recensire e spoiler delle location di dove vado a far volare i miei droni e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale ovviamente anche di questo longer ray 5 si trova di coupon sconto sul mio profilo telegram ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o una novità ciao e al prossimo video iscrivetevi al canale